ecco prego si può iniziare benissimo allora buonasera a tutti e buonasera e benvenuto al professor guido kreins ea mirko caratieri ormai sono quasi quotidiani nostri collegamenti perché abbiamo deciso tra l'altro con anche un buon numero di persone che si che si collegano si iscrivono ai nostri webinar perché noi abbiamo deciso di mantenere a proprio che sia importante mantenere aperta una finestra di dialogo di riflessione su quelli che sono i problemi i problemi di oggi e di tener vivo una relazione un contatto con le persone anche con queste modalità diverse con questa modalità cui molti di noi non erano abituati però ci si sta abituando ed è importante proprio per tenere vivo un per tenere vivo una relazione ecco oggi veniamo ieri abbiamo fatto un incontro un bel incontro sul pensiero politico abbiamo parlato di democrazia delle forme della democrazia e delle trasformazioni della democrazia oggi parleremo di storia contemporanea con un focus sull'europa e abbiamo come ospite e come come primo relatore uno studioso di altissimo livello come il professor guido kreins che io ho il piacere proprio di salutare di ringraziare per essere qui con noi e per inaugurare questo ciclo di quattro incontri sull'europa con quattro sguardi diversi quello di guido kreins che sarà uno sguardo proprio sui modi storici che hanno riso difficile la costruzione di questo un progetto realmente europeo di una storia realmente europea poi passeremo a marica tolomelli giovedì 11 febbraio che parlerà dell'europa dei diritti e poi avremo lo guardo di un analista geopolitico l'europa nel quadro della della geopolitica e con un futuro sempre più sempre più incerto sempre più e poi chiuderà francesca fauri sull'integrazione economica europea e le sfide che oggi l'europa deve affrontare maggior ragione in questa situazione veramente tragica che stiamo vivendo e qui con noi mirko caratteri che è docente di un imore coordina il comitato scientifico di storeico ed è direttore del dell'istituto pare di milano e che da anni collabora con la luca per la programmazione dei nostri corsi di storia vi lascio la parola perché sarà lui a presentare il il nostro ospite a presentare il professor guido krains che è suo collega e a parlare del del tema di oggi grazie mille adesso mi tolgo e buon ascolto a tutti grazie grazie susi buonasera anche da parte mia e un saluto a tutti e in particolare un saluto al professor guido krains che è qui con noi oggi professor krains ha insegnato a lungo storia contemporanea università di teramo e anche però molto presente nel dibattito pubblico attraverso i suoi contributi per repubblica per per radio 3 e ha scritto molto sulla storia dell'italia repubblicana una serie di libri fondamentali su questo tema pubblicati dall'editore donzelli ma per noi indiani anche molto stato molto importante per i suoi lavori sulla sulla pianura padana tra otto e novecento e sul dopo guerra negli ultimi anni ha scritto alcune opere fondamentali con lo sguardo europeo ricordo il lavoro sui spostamenti forzati di popolazione dopo la seconda guerra mondiale anche quello sul 78 in europa orientale ultimo lavoro importantissimo lavoro pubblicato insieme ad angelo volatti per l'editore donzelli calendario civile europeo è proprio quello da cui partiamo per la nostra riflessione di oggi perché è un tentativo di ricostruire quelli che sono i nodi della storia europea e soprattutto della memoria pubblica dell'europa quindi di qui partiamo lo ringraziamo molto per la sua presenza e speriamo che insomma questo tema non semplice possa essere di stimolo anche alle domande del pubblico presente grazie guido a te la parola grazie a te grazie a voi naturalmente e il tema di questo incontro sulla difficile costruzione di una storia realmente europea come ha detto mirko è il nodo con cui e altri studiosi abbiamo cercato di misurarci immaginando e realizzando più o meno faticosamente un volume che ha coinvolto una quarantina di storici italiani e stranieri una proposta molto iniziale molto interlocutoria di calendario civile europeo di cui credo abbiate ricevuto molti di voi almeno sia l'indice sia la dichiarazione di intenti cioè la lettera agli autori che abbiamo mandato al che poi comparsa che abbiamo mandato agli autori che poi comparsa nel risvolto di copertina del voluto ecco l'idea e il progetto di questo libro nascevano dalla convinzione che nella costruzione dell'europa sia necessario anche far crescere lo sguardo sulle lacerazioni del passato lo sguardo comune un dialogo di sguardi sulle lacerazioni del passato cioè sia necessario superare il peso delle appartenenze nazionali nelle diverse delle diverse memorie nazionali e storiografie le carenze e le pigrizie su questo terreno cioè il rimanere aggrappati o imprigionati in una visione che al centro la propria nazione il punto di vista della propria nazione il permanere su questi in questa pigrizia diciamo è di lungo periodo ma le carenze sono diventate molto evidenti quasi laceranti all'indomani dell'allargamento dell'unione europea l'allargamento cioè all'europa centro orientale ma per molte ragioni giustamente un intellettuale ungherese ha scritto georghi korrad ha scritto che l'europa occidentale è vissuta lungo con le spalle rivolte al muro di berlino cioè senza guardare dall'altra parte e gli ha dato ragione uno storico inglese molto attenti a questi aspetti norman davis che ha scritto e ha documentato insomma come anche nel guardare al passato abbiamo guardato al passato con gli occhi dell'occidente l'89 la caduta della cortina di ferro e poi l'allargamento dell'europa avrebbero dovuto imporre un salto di qualità nella conoscenza reciproca ma anche nel modo di guardare al passato ma in realtà non è stato così non è stato abbastanza così è stato molto poco così se vogliamo dire eppure un po paradossalmente il nesso strettissimo fra passato e futuro ci è ricordato proprio dai leader nazionalisti sovranisti se volete dell'europa orientale dell'ungheria e della polonia in particolare che eh leader che hanno affiancato alla loro impostazione politica al loro progetto politico nazionalista la riscrittura d'autorità dei libri di storia una riscrittura nazionalistica vittimistica rivendicativa in cui cioè il proprio paese è unicamente vittima delle sopraffazioni delle altre nazioni europee e vengono invece rimosse le proprie responsabilità storiche ecco che europa si può costruire sei giovani a scuola insegnata questa storia questo dunque questa era la nostra convinzione ci ci ha mosso assieme all'edittore carmine donzelli e agli altri autori insomma è un terreno di impegno non secondario e siamo partiti da qui per progettare il nostro calendario civile europeo sapendo bene che era una proposta molto iniziale come ho detto molto perlocutoria il titolo originario era per un calendario civile europeo poi quel per toglieva un po' di appile editoriale e quindi abbiamo lasciato calendario civile europeo ma nella nostra testa c'è sempre quel per c'è sempre la convinzione che è un passo iniziale molto iniziale e questa parzialità sarà un po' il filo conduttore del mio intervento ma ci troviamo subito di fronte a una questione preliminare cioè di quale europa avremmo parlato quali erano i suoi confini e quale arco temporale inevitabilmente limitato inevitabilmente parziale avremmo considerato ecco sul primo versante cioè i confini superiore santi cioè i confini dell'europa sono ancora fondamentali le lezioni ed emozionanti le lezioni tenute nel 44 45 da un maestro come lucienfevre nella parigi appena liberata e lezioni che insistono molto sul concetto di confini mobili dell'europa cioè confini connessi alla storia alle culture non ai monti ai mari non nella geografia fevre dava forza anche con molta verba le sue affermazioni soffermandosi ad esempio su quello che giustamente chiamava il falso confine dei monti urani dice ma quale confine assù di questi monti c'è stato un passaggio enorme di popolazioni che limite che confine e argine e e anche identificando l'europa con la cultura europea diceva con la civiltà europea con la cultura europea dove si ferma questa civiltà drostoievski gorpchi altri sono europei per ragioni diversissime molto diverse da queste lo stesso nodo i confini dell'europa ci è stato riproposto drammaticamente dal traumatico dispo solversi della ex jugoslavia negli anni 90 del secolo scorso era europa quella che esplodeva ferocemente allora era europa sarajevo sono europa i balcani sono un mondo altro si è chiesto una filosofa croata rada ivekovich o sono la verità rimossa dell'europa la sua violenza riconosciuta solo in quanto altrui sono le sue parole si pensi poi al mediterraneo in uno splendido libro che si chiama appunto mediterraneo madvejevic ha osservato che non è solo geografia e non è solo storia i suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo non sono riducibili alla sovranità e agli stati somigliano al cerchio di gesso che continua ad essere descritto e cancellato allargato ristretto dalle onde dai venti dalle imprese e dalle ispirazioni naturalmente sono parole di madvejevic e accanto a mediterraneo in questa delle letture preliminari metterei un altro grande libro danubio di claudio magris e magris ha scritto anche l'introduzione a mediterraneo per molti versi dunque l'idea di confini mobili dell'europa permette di scandagliare meglio lo scorrere della storia e a questo aspetto riviano molti saggi del libro sull'esplosione dell'ex quello sull'esplosione dell'ex Jugoslavia naturalmente quello sull'ucraina sulla turchia sul comunismo sovietico e altri ancora la parzialità del nostro pre approccio che avevo dichiarato insomma che continuerò a ricordare è ancora più drastica se consideriamo la delimitazione temporale che abbiamo scelto dalla dissoluzione degli imperi all'incognite del terzo millennio i nodi storici di una costruzione difficile queste sono le chiavi del volume le chiavi dichiarate e vi sono implicite due cose da un lato la necessità di giungere sino all'oggi cioè di proporre una lettura storica anche delle contraddizioni attuali della costruzione dell'europa anche della crisi attuale dell'europa anche se la viviamo dall'altro lato la necessità di mettere a fuoco soprattutto i processi e le lacerazioni del novecento prendendo avvio insomma dalla prima guerra moderna e dalla dissoluzione dei grandi imperi scelta parzialissima come naturalmente c'era c'era chiaro e ci è sembrato obbligatorio indicare almeno due fili due da due precedenti due momenti fondativi dei fili che consideriamo costitutivi della costruzione dell'europa l'affermarsi dei diritti costituzionali e l'affermarsi dei diritti sociali con le due date simbolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e della nascita della seconda internazionale due filoni dichiarati all'inizio e seguiti poi a che attraversano poi il volume più esplicitamente in alcune voci quelle sull'affermarsi dei diritti delle donne quella sulla repubblica di weimar quella sul modello social democratico scandinavo che si delinea negli anni trenta anche per non dimenticare che l'uelfare non nasce solo nell'america di russo e poi sulle costituzioni del secondo dopoguerra sulla dichiarazione dei diritti sulla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e così via ci abbiamo voluto esplicitare in modo chiaro fin dall'inizio con quei due precedenti quegli assi fondamentali di quel che consideriamo euro e abbiamo discusso a lungo in realtà anche con diversi autori se includere almeno un'altra data almeno una terza data non novecentesca una data cioè che evocasse il passato coloniale dell'europa abbiamo poi scelto di mantenere la nettezza della scelta originaria sui due due date corrispondenti ai due filoni che attraversano volute e di evocare naturalmente quel passato e di evocarlo a partire dalla sua crisi però la guerra di algeria è stata colta insomma è stata vista come occasione per riflettere sul tramonto del colonialismo e sulle ombre della civiltà europea questo il titolo della voce ecco se questa era la cornice è sufficiente scorrere l'indice del libro per cogliere l'intrecciarsi di temi aspetti molto diversi con una differenza fondamentale rispetto al calendario civile relativo all'italia curato molto bene qualche anno fa da sandro portelli e sempre per tonzelli lì era alle spalle un calendario civile e consolidato 15.000 il primo maggio 2 giugno 8 marzo insomma semmai da arricchire con altre date la repubblica romana insomma c'era modo ma su un asse consolidato identificabile insomma su una chiave anche calendario civile popolare democratico era proprio dichiarato esplicitamente questo filone ma nel nostro caso vi era un calendario da costruire in questa costruzione abbiamo scelto di intrecciare momenti fondanti di cui ribadire la centralità ma anche rivisitandoli rileggendoli con gli occhi dell'oggi momenti talora ignorati o trascurati e momenti e date controverse letti in modo diverso dalle differenti storiografie e che rimangono in modo diverso nelle differenti memorie nazionali ecco a differenza di quel che avviene nei calendari che si rispettano nel nostro volume l'elemento centrale non è la data ma il tema generale che viene indicato questo l'indice è dato dai temi sostanzialmente la data però aiuta spesso a segnalare un problema un aspetto ribosso a costituire a se quasi in qualche caso una provocazione per il lettore e le cose sono più chiare se partiamo da alcuni esempi iniziando direi da eventi fondamentali come le due guerre mondiali e i trattati di pace che le concludono. Sulla grande guerra come prima guerra moderna viene naturalmente evocata una storiografia consolidata e altrettanto è per la crisi d'epoca avvertita a rindomani di essa per la quale è stato scelto come riferimento un'opera letteraria è stata scelta la montagna incantata o la montagna magica se volete di Thomas Mann. Mentre la voce sui trattati di pace che concludono la prima guerra mondiale li considera sì nel loro insieme li analizza tutti nel loro articolato eccetera e l'intreccia anche cosa che non sempre avviene a lungo protrarsi di guerre guerre civili rivoluzioni fino almeno la guerra greco turca ma la data scelta ha lo scopo esplicito di richiamare l'attenzione anche su un altro aspetto cioè la data il tema è questo nel suo complesso ma la data non è quella del trattato di Versailles con la Germania come ci aspetterebbe ma quella del trattato del trianon che riguarda l'ungheria non permettere in discussione quello che nel saggio è ribadito insomma c'è l'importanza centrale dell'umiliazione della Germania con le conseguenze drammatiche che avrà e così via ma per segnalare almeno due cose da un lato che ancora oggi un secolo dopo il trattato del trianon è utilizzato polemicamente nella propaganda nazionalistica e rivascista di oggi in Ungheria Orban tuona contro la vergogna del trianon e per riverdire il mito della grande Ungheria da far risorgere ecco dall'altro lato ci preveva a sottolineare che non tutto è andato bene non tutte le cose hanno funzionato nell'europa centro orientale delineata in quei trattati sulle ceneri dei grandi degli imperi e non solo perché due degli stati nati allora iugoslavia e cecoslovacchia oggi non ci sono più ecco allo stesso modo per le conferenze di pace nella seconda guerra mondiale abbiamo scelto come data quella della conferenza di posta ma non in relazione alla divisione del mondo in sfere di influenza che naturalmente è centrale ma è tema centrale ma trattato in altre voci noi l'abbiamo scelta per richiamare l'attenzione sul dramma più rimosso della storia europea del novecento un dramma a cui era dedicato anche il libro che ha citato naufraghi della pace che ha citato mirko prima un dramma che viene sancito definitivamente apposta se l'espulsione forzata di milioni di persone milioni soprattutto tedeschi dare in cui avevano vissuto per generazioni è un processo che avviene in quei mesi puntuosi anche sull'onda di grandi esplosioni di violenza di massa contro i tedeschi dopo la guerra di sterminio condotta in quelle aree da hitler ma vi sono anche volontà esplicite volontà esplicite ufficializzate appunto apposta ma dichiarate prima un anno prima cerci dice alla camera dei comuni che l'espulsione dei tedeschi preannuncia che vi saranno espulsioni tedeschi dall'europa dalle zone di al zone dell'europa centro orientale con l'ungheria la polonia la cecoslovacca ed altre e perché queste espulsioni dice testualmente sir churchill sono il metodo più duraturo e soddisfacente per porre fine a miscugli di popoli causa di guai interminabili parole di churchill ma coi miscugli di popoli sono stati il cuore della mitte l'europa dicevo milioni e sono meno 11 12 milioni i tedeschi espulsi spesso in modo feroce dalla cecoslovacchia 3 milioni soprattutto dai sudeti i tedeschi dei sudeti ma non solo dai sudeti dalla polonia 8 milioni in questo caso connessi anche al drastico spostamento dei confini verso occidente del paese stalin si annette la parte orientale della polonia e la compie viene compensata attribuendoli terreni che erano stati tradizionalmente tedeschi fino ai fiumi oder tenais e poi appunto vi sono i tedeschi espulsi dall'ungheria dalla stessa jugoslavia e altri paesi ancora in questo scenario si scrive anche l'espulsione l'esodo italiano dall'istria e vi sono poi altri processi le espulsioni reciproche feroce anche in questo caso di polacchi e ucraini da qui in cui avere da aree in cui avevano convissute a lungo e così via ecco si valuta che in questo processo vi siano in grosso modo un milione di vittime in parte minore per violenze dirette ma in molto di più per le condizioni disumane e feroci in cui avvengono quegli esodi forzati che iniziano drammaticamente già nell'ultima fase della guerra nell'inverno del 44 45 con la fuga di fronte all'avanzare dell'armata rossa una storia ancora ignorata o rimossa in gran parte d'europa eppure contribuisce anch'essa a modificare drasticamente i tratti di un'europa centro orientale che la shoah ha già lacerato profondamente contribuisce anche anche questo processo alla scomparsa di un cuore dell'europa che era stato multietnico multiconfessionale e multiculturale e che aveva avuto con elementi centrali fra gli altri sia la presenza ebraica che quella tedesca ecco se qualcuno ma vi faccio solo un paio di esempi uno soprattutto che credo faccia capire la perdita culturale in questo di che cosa stiamo parlando se un oggi se un insegnante un po sbadato volesse portare i suoi studenti a koenigsberg patria di kant e il luogo dove è cresciuta a nared cioè luogo importante della cultura tedesca beh non lo potrebbe fare che oggi si chiama kaliningrad i tedeschi non ci sono più sono stati espulsi nel 45 è una enclave russa fra bologna e lituania e non vi troverebbe appunto tedeschi ma i musili di missili di putti puntati contro i paesi baltici o un altro esempio studiato appunto da norman davis la breslavia breslao che diventa avroclav oggi avroclav e non vi sono tracce del passato tedesco ma neanche ungherese e gli esempi potrebbero continuare ecco finisce anche così con queste feroci espulsioni una guerra segnata appunto dalla schwa qui naturalmente abbiamo dedicato una voce specifica curata da annafoa curvata anche sul permanere dell'antisemitismo una guerra segnata anche come sapete da una resistenza al nazismo che ha molti volti nei differenti paesi europei ma non ha precedenti nella storia ma notava molti anni fa uno storico della resistenza come giorgio baccarino intellettuale torinese è una delle due voci che ho fatto io l'altra è quella sulla memoria oltre all'introduzione e nel delinearne i tratti ho cercato appunto di coglierne la dimensione europea generale e scegliendo al tempo stesso non una data italiana o una data francese ad esempio una strage nazista varzavotto radursi urlan e così via ma una data che evoca subito un problema la data dell'insurrezione di varsavia ferocemente ripressa ripressa dai nazisti mentre l'armata rossa tende sull'alto lato della vistola che la strage si coglie insomma che la resistenza della città sia disterminata ecco quell'evento rivela davvero alcune verità fondamentali della seconda guerra mondiale come è stato scritto e di lì a poco in tutta l'area di influenza sovietica la resistenza non comunista sarà duramente emarginata e qui vi è un nodo centrale con una ricaduta diretta sui conflitti di memoria dell'oggi perché se a occidente l'unità antifascista prefigurò allora il pluralismo democratico in tutta l'area di influenza sovietica il progetto staliniano prevedeva l'emarginazione e poi la soppressione delle forze non comuniste e se in occidente l'antifascismo si connette strettamente con la riconquista e il rinnovamento ancora di più della democrazia al di là della cortina di ferro diventa l'ideologia di stato l'ideologia ufficiale i regimi di Bertigini dopo la caduta del muro di berlino la contraddizione non può più essere rivolse e diventa traumaticamente visibile nelle sue conseguenze all'indomani stesso dell'allargamento dell'europa allargamento è del 2004 nel 2005 è il sessantesimo anniversario della fine della guerra e della sconfitta del nazismo in poche ore vi sono in quel 2005 due apposti segnali il 10 maggio nel cuore di berlino viene inaugurato il memoriale per gli ebrei assassinati d'europa che inaugurazione che è appunto in fondo il culmine del processo che ha sancito nella coscienza tedesca ed europea la centralità della Shoah un processo iniziato con l'immagine emozionante del 1970 di Willy Brandt inginocchiato nel ghetto di Varsavia che abbiamo preso a simbolo della data come data simbolo per le memorie europee il giorno prima di quel momento di altissima intensità emotiva ma il giorno prima il 9 maggio Lettonia ed Estonia paesi entrati in Europa disertano le celebrazioni moscovite del sessantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale e della sconfitta del nazismo comprese di posizioni meno eclatanti ma nella sostanza convergenti di Polonia e Lituania per noi disse la presidente Letton quel giorno la fine della guerra non è un momento di gioia ma l'inizio della dominazione sovietica esplodono contemporaneamente allora due questioni spesso indebitamente intrecciate anche nel dibattito o nel alcune discussioni recenti due questioni perché nei paesi comunisti infatti nei paesi ex comunisti la giusta esigenza di non rimuovere l'oppressione e i crimini dei regimi comunisti non solo di Stalin anche dopo ecco questa esigenza giusta si accompagna spesso alla sostanziale rimozione o negazione della centralità della Shoah e delle e anche delle proprie corresponsabilità in esse sino alle cerimonie e ai monumenti dedicati nei paesi baltici e altrove a chi combatte tra virgolette per la libertà contro l'unione sovietica ma al fianco dei nazisti e sino a musei e memoriali dedicati ai genocidi o al terrore in cui a Budapest come a Vilnius in Lituania sono quelli dei regimi comunisti a occupare pienamente il campo e la Shoah tende quasi a scomparire e poi abbiamo avuto la riabilitazione per fare solo alcuni esempi di altri paesi la riabilitazione degli Ustasci adiante Pavelic in Croazia del capo delle guardie di ferro Antonescu in Romania di Orti in Ungheria cioè i peggiori collaborazionisti per capirci è difficile fare Europa se non ci si misura realmente con questo nodo e più in generale con le differenti memorie e deformazioni di memoria delle due Europa con le differenti memorie insegnate su cui i giovani vengono formati ecco se passiamo poi al periodo che va dal dopoguerra al 1989 anche qui qualche data vuole essere quasi una provocazione inizierei con una più leggera diciamo per un evento non politico e appunto molto più leggero per esplodere delle culture giovanili degli anni sessanta e abbiamo deciso di prendere a simbolo non un evento occidentale come ci si poteva immaginare insomma dei beaters così via insomma ma abbiamo scelto come data un concerto di Rolling Stone nella Varsavia del 1967 è un modo per segnalare con una piccolissima provocazione in questo caso che quel fenomeno attraversa la stessa cortina di ferro nonostante veti e censura inizia in qualche modo ad erodere cioè che processi sociali e culturali erodono le divisioni politiche già prima della caduta del mondo e per il 68 una voce fatta con grande passione e rigore da Anna Bravo una storica che rimpiangiamo e questo è stato il suo ultimo lavoro abbiamo scelto come data non il maggio francese o un evento italiano con Berlino in Berlino ovest ma l'agosto dell'invasione di Praga in questo caso per esplicitare in realtà un giudizio storico sostanziale cioè i movimenti del 68 hanno certamente nel nostro giudizio per lo meno hanno certamente un effetto di innovazione culturale sociale così via delle mentalità rompono vecchi schemi ma nella storia successiva dell'Europa non lasciano grandi segni quello che avviene a Berlino a Parigi o a Torino o a Trento non lascia enormi segni nella storia successiva dell'Europa credo che su questo si possa facilmente convenire ma è invece un vero spartiacque quello che avviene in cecoslovacca e in Polonia per certi versi più contradditoriamente anche in Jugoslavia l'invasione di Praga e la durissima repressione degli studenti polacchi e dei docenti che li sostengono nomi come Bauman tanto per dirne una insomma quella durissima repressione sancisce in via definitiva che quei regimi regimi dell'est comunista non sono riformati che il socialismo dal volto umano non è possibile inizia da qui può essere solo abbattuto inizia da qui il difficile e contrastato percorso che porta all'89 naturalmente percorso qui abbiamo dedicato un'altra voce che reca la data degli scioperi di Solidarno dell'inizio degli scioperi di Solidarno naturalmente è evocato anche il percorso già in questa fase dell'unione percorso iniziale prima dell'unione europea dell'Europa insomma e la voce che ne parla ha la data è affidata a Giuliano Amato che l'ha fatta con grande finezza e con una riflessione molto profonda e di cui alcuni aspetti gli abbiamo colpi l'importanza anche dopo ma semmai su questo torniamo e la voce alla data dei trattati di Roma e si interroga sia sulle ragioni di forza del progetto europeo nei primi decenni sia sulle radici della crisi più recente e considera poi il rapporto fra identità nazionali e identità europee ecco naturalmente in questo percorso l'89 è uno spartiacque centrale lo sottolinea bene la voce di Angelo Goularty ed è utile però non rimuovere altri processi avviati allora ma nella stessa Europa molto di più nello scenario mondiale ma anche nella stessa Europa l'Europa ex comunista in cui l'Europa diciamo l'Europa della cortina di ferro diciamo anche nella Jugoslavia nell'Europa diciamo dell'Europa ex comunista l'89 fu certo un momento fondativo della democrazia ma nella ex Jugoslavia si innescava ad esempio in quello stesso 89 il processo che avrebbe portato alle lacerazioni dei primi anni 90 alla dissoluzione drammatica con quello che abbiamo visto dell'ex Jugoslavia e riportando appunto la guerra nel vecchio continente qualcuno ha scritto che il secolo iniziato a Sarajevo nel 1914 terminerà negli anni 90 di nuovo a Sarajevo ma se allarghiamo quindi anche in Europa non è tutto così diciamo ma se allargiamo lo sguardo al mondo beh in quel 1989 il movimento per la democrazia trionfante dell'Europa centro orientale come sapete fu schiacciato in piazza Tiananmen a Pechino e va aggiunto però che oggi in Asia si guarda a quella fase proprio a quella a quella stritta quella fase a quella fase lì insomma per capirci come inizio dell'ascesa della Cina come straordinaria superpotenza mondiale è un modo diverso di guardare l'89 e andrebbe anche ricordato che è di quello stesso 1989 la fatva di Salman Rushdie quasi annuncio della fatva scusate di comeidi a Salman Rushdie quasi un annuncio dell'avvento dell'inasprirsi del fondamentalismo islamico. Uno sguardo solo europeo all'89 ci appare dunque inadeguato ma per l'Europa è uno snodo centrale e adesso riviano sia le speranze di allora sia i disorientamenti successivi sul futuro dell'Europa. Come ricorderete nell'89 qualcuno parlò di fine della storia intendendo con questo che l'Occidente e la democrazia liberale aveva trionfato sciocchezze purtroppo nel 2004 Rifkin un intellettuale di prestigio scriverà ed è importante insomma scriverà un libro che ha come titolo il sogno europeo scrivendo il sottotitolo è sta sorpassando il sogno americano ma in realtà appunto se ripensiamo a quella euforia dell'89 poi del 2004 consideriamo scogliamo subito un paradosso drammatico cioè la fase di maggior trionfo appunto del sogno europeo in realtà coincide con l'inizio di una crisi profonda e già prima della crisi finanziaria internazionale del 2008 o dello scenario segnato nel 2015 dal tracollo della Grecia dall'emergenza immigrazione e dal manifestarsi dall'esplodere del terrorismo islamico un anno iniziato con Charlie Hebdo che è terminato al Bataclan. La crisi era avvertibile già prima i primi sintomi iniziano già all'interno della fase dell'ottimismo nel 2003 con i pronunciamenti contro l'euro di Danimarca e Svezia e nel 2005 con referendum che bocciano la costituzione europea in Francia e in Olanda. Come forse qualcuno ricorderà nella campagna contro l'Europa fu paventata l'invasione di idraulici polacchi in Francia e di raccoglitori di tulipani in Polonia in Olanda scusate facciamo male a ironizzare su quelle paure perché emergono già i nodi risolti di un'Europa più grande per citare un'altra voce ed è rivelatrice la parabola del gruppo di Visegrad. Forse dimentichiamo spesso che il gruppo di Visegrad non nasce contro l'Europa. Nasce nel 1991 proprio per favorire l'ingresso in Europa della Cecoslovacchia, allora unita, della Polonia e dell'Ungheria. E' promosso da figure come Vaclav Havel, cioè il primo sostenitore del ritorno in Europa, poi l'Eugualenza e altri, e il suo documento fondativo è un eccellente manifesto di democrazia liberale. Eccellente. Ecco perché e quando inizia la parabola che ha portato alle chiusure i liberali di oggi, ma anche dell'immediato ieri, insomma, degli Orban e dei Kaczynski. E perché, per fare un esempio anche forse meno conosciuto, noto ma forse un po' sottovalutato, insomma, perché l'ex Germania dell'Est in una prima fase fa trionfare nelle elezioni la CDU di Kohl, primo artefice dell'unificazione, ma di lì a molto breve, ma di lì a breve, di lì a non un po' molto, insomma, vede crescenti consensi prima per gli ex comunisti della Link, quindi simbolo del passato, nostalgia del passato, e poi l'estrema destra anti-europea negli ultimi anni, questo, di Alternative für Deutschland, radicalmente distruttiva rispetto all'Europa e votata a Est molto più che a Ovest. Perché, insomma, nell'ex Lederne, l'ex Repubblica Democratica tedesca, l'ex Germania dell'Est, per capirci, si passa dal plebiscito pro-Europa al suo contrario. Ecco, il compito dello storico naturalmente non è quello di dare risposte univoche, ma di suggerire riflessioni. Abbiamo cercato di fare questo, con varie voci e con grandi contributi, indicando alcuni noti. Alcuni di essi non riguardano solo i paesi ex comunisti. Naturalmente il più evidente sono le ferite e i mutamenti dello scenario internazionale. Dalla globalizzazione felice, per dir così, dei primi decenni del dopoguerra, i trenta anni gloriosi dell'Occidente, come è stato scritto, alla globalizzazione dolorosa di oggi. Dall'ottimismo per il futuro, e per il futuro dei propri figli, che è ancora più importante, alle drammatiche incertezze di oggi. Al fondo della prima fase vi era un'altra idea, e cioè che la crescita dell'Europa nel suo insieme coincidesse con la crescita di tutti i singoli stati, in una situazione che prevedeva solo vincitori. Così fu in realtà allora. Se pensate agli anni 50 e 60, oggi non è più così. E anche questa è una differenza non piccola, diciamo. Per altri versi, poi come è stato detto, se volete un po' paradossale, non siamo figli dello stesso Novecento, fra Est e Ovest. Nell'esperienza del primo gruppo di stati fondatori, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, dell'Europa devastata della Seconda Guerra Mondiale, la costruzione di un'Europa punita era la risposta alle devastazioni e agli orrori provocati dai nazionalisti. Nel Paese dell'Est, il riferimento alla nazione ha aiutato invece a liberarsi da una dominazione sovietica che si ammantava di internazionalismo. E quindi il riferimento alla nazione ha avuto anche un ruolo positivo, nel mescolarsi di molte cose naturalmente, anche delle peggio cose del nazionalismo, ma anche aveva questo senso di contrapposizione all'Unione Sovietica. Di qui anche, anche di qui, non solo da qui, ma anche di qui la forte presa delle polemiche nazionaliste o sovraniste, se volete, di oggi contro le interferenze esterne. Bruxelles paragona nei suoi discorsi, Bruxelles a Orban, scusate, paragona nei suoi discorsi Bruxelles a Mosca. Bruxelles come Mosca. Ed è un argomento che funziona in Paesi in cui il riferimento alla nazione è stato uno degli elementi fondamentali. Lo scordate che questo aspetto, assieme ad altri molto importanti, assieme ai rischi di populismo e di richieste di un uomo forte, lo segnalava nel 1990, non ieri, nel 1990, all'indomani della caduta del muro, uno storico di grande rilievo, Bronis Lluigieremek, che era anche un grande dirigente, un autorevole dirigente di Soldados. Geremek è uno storico dell'età moderna e medievale, insomma dei poveri dell'età medievale e moderna. Ma in un convegno al Senato, introducendo un convegno al Senato polacco nel 1990, proprio sul tema dell'Europa, diceva guardate, noi adesso giustamente nei nostri Paesi c'è euforia, insomma, perché è caduta la dittatura e così via, ma badate che i nostri Paesi, con l'eccessione forse della Cicoslovacca tra le due guerre, non hanno conosciuto una vera democrazia neanche prima del comunismo e quindi non hanno sedimentato un costume democratico e quindi è molto forte il rischio di tentazioni populistiche, abbiamo ancora gli orecchi la demologia comunista, di tentativo di un uomo forte come risoluzione alle difficoltà della democrazia e appunto il riemerge di un nazionalismo che è stato anche un elemento di autodifesa non sovietica, ma anche il peggio del peggio delle culture nazionali. Ecco, un altro aspetto è sottolineato nel nostro calendario da Charles Rupnick e vi confesso che abbiamo provato una vera emozione quando Rupnick ci ha detto di sì, cosa gli abbiamo proposto di collaborare al calendario, perché Rupnick è un intellettuale di primo rilievo, insomma, insegnare a Sorbona per capirci, ma anche un intellettuale che si è impegnato sul campo ed aveva partecipato nel 91 alla prima Visegrad, quella europeista per capirci, come consigliere di Adel, perché questo è stato, consigliere di Sinciclovacca e di Vakrafad. E Rupnick, nel ragionamento che fa Rupnick nella sua voce, molto stimolante, e anche fra l'altro nel libro Senza il muro che ha pubblicato contemporaneamente sempre da Donzelli, sottolinea come abbia pesato negativamente nella prima fase della post-comunista, diciamo, l'identificazione di democrazia liberale e liberismo economico. Liberismo economico sfrenato, oltretutto, perché sono gli anni in cui ispirava forte il vento del neodiliberismo. Tende da qui una drastica riduzione delle protezioni sociali pur distorte che i regimi comunisti avevano comunque costruito, ed ebbe effetti pesanti anche il drastico smantellamento dell'economia di Stato. Con una conseguenza non da poco, una conseguenza assolutamente centrale, su cui riflettiamo troppo poco. A Occidente la democrazia storicamente coinciso con la introduzione e l'allargamento dell'Uelf, a Oriente con il suo smantellamento, almeno parziale, con lo smantellamento di quelle protezioni sociali che i regimi comunisti, ripeto, sia pure in modo distorto e con altissimi prezzi avevano operato, avevano costruito. Nell'euforia dell'89 pensiamo che vi fossero solo gli Havel, i Michnik o appunto Valenza comunque, e sopravvalutammo la società civile e sottovalutammo il peso della società incivile, diciamo così, che si era forgiata in quei regimi, apparati di partito, sindacati, burocrazia, con elementi di corruzione già presenti e sottovalutammo forse anche il carattere composito dei submovimenti che portarono alla caduta del comunismo. I Orban in Ungheria, i Kaczynski in Polonia c'erano già allora, erano presenti, Kaczynski faceva parte come il gemello, faceva parte di Solidarno, era parte conservatrice di Solidarno, ma lì stavano, non stavano da un'altra parte. Orban aveva fondato il suo movimento di giovani democratici, perché Fidesz così si chiama, Hava e si chiama, e ebbe un momento di notorietà giovane quando concluse le manifestazioni per la cerimonia di funevo ufficiale, insomma, di riabilitazione, insomma, di Nogi, l'eroe del 1956, la leader iderese del 1956, attaccando violentamente l'Unione Sovietica. Lì iniziò la popolarità di Orban. Quindi lì stavano, i compositi erano quei movimenti. Ecco, qui ci sono molti terreni poco conosciuti su cui offrire strumenti di comprensione è necessario. Ecco, naturalmente nel calendario sono presenti molte altre questioni in altre voci, ma guardando anche l'orologio direi che mi sembra comunque che i temi di discussione non manchi. e confido, insomma, che vi siano delle domande o delle questioni su questi temi. Mi sembra però che il quadro generale di problemi aperti sia già così abbastanza denso. Grazie. Grazie Guido. Intanto chiedo ai partecipanti se ci sono domande, possono farle, credo, in chat. Ho visto che mi sembra il sistema più semplice. E quindi se ci sono domande o richieste dal nostro relatore, di svilupparle in chat. Mentre aspettiamo faccio io una domanda intanto a Guido per rompere il ghiaccio, visto che ha parlato di alcuni aspetti importanti del volume e delle problematiche che tratta. vi chiedo di avvicinarsi ulteriormente nel tempo, visto che il libro dedica molto spazio appunto al periodo post del nuovo millennio. E vi chiedo una valutazione sulle politiche della memoria dell'Unione Europea, in particolare appunto le ultime risoluzioni che hanno destato molta discussione. Proprio nell'ambito del tentativo di affrontare i problemi che lui citava. Queste azioni di politica della memoria dell'Unione vanno nella direzione. Io sento male, però che... Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Io forse ho capito, ma ti sento male, però posso... Vai pure, vai pure, le politiche della memoria... No, se puoi completare meglio, se sento meglio, se capisco meglio, grossomodo penso di aver immaginato, ma continua così capiscono anche gli altri, insomma. Mi sentite? Sentite ora? Bene. Io sento, Mirko, prova... Dicevo a Guido se le politiche della memoria dell'Unione Europea vanno nella direzione di aiutare questo dialogo che il libro propone, oppure se secondo lui non sono efficaci o addirittura creano problemi. Qual è l'azione delle politiche della memoria dell'Unione? Ecco, la domanda è proprio questa. Ma è l'Unione che deve avere politiche della memoria? È il Parlamento Europeo che deve avere? È una mozione del Parlamento Europeo che deve avere? Questo è stato l'errore clamoroso della mozione... Credo che Mirko si riferisca, insomma, come sapete, è una mozione di un anno e mezzo fa, soprattutto, direi. Mirko, corregimi se interpreto male, insomma. Una mozione che appunto fu molto discussa perché in qualche modo sembrava paragonare nazismo e comunismo, eccetera. Ecco, quella mozione, guardate, è tutto fuorché un esempio di politica della memoria. È un compromesso politico fra stati diversi. Fra le due, quella mozione è frutto di emendamenti, aggiustamenti, eccetera, in cui le frasi, diciamo, scritte dalla Polonia, soprattutto, che è quella promotrice di quella mozione, sostanzialmente per equiparare nazismo e comunismo e così via, dire che appunto è il patto Molotov-Ribetron che provoca la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, sono contemperate da altre frasi in cui è stata messa da altri paesi, insomma, l'Italia, la Germania, eccetera, la Francia, insomma, in cui invece si ribadisce la centralità della Shoah e così via. Si denuncia quello che è, in realtà, quello che sta succedendo in quei paesi, cioè la riabilitazione, la rimozione totale della Shoah e delle proprie responsabilità della Shoah. In Polonia è diventata reato dire che vi furono responsabilità polacche nella Shoah. Ecco, diciamo, tutto si può fare tranne che donare la memoria all'istituzione, fare della memoria un oggetto di trattativa fra le delegazioni parlamentari, della direzione di Polonia, dello Stato polacco e così via, insomma. Tutto questo è l'unica cosa che non può essere fatta. Il problema vero è cosa stiamo facendo per contrattare questa cosa qua. Cioè, badate, mi cito due cose, mi ha colpito molto, lo cita Bolafi, io non lo conoscevo, lo cita Bolafi nel suo saggio, una lezione degli anni 30 di Stefan Zweig. Stefan Zweig diceva, guardate, di fronte all'Erad che era preso, sentiva avvicinarsi la catastrofe e sentiva l'Europa come unica difesa. Diceva, badate, bisogna farsi conoscere le culture reciproche. Immaginava negli anni 30 un colossale Erasmus che coinvolgesse tutti gli studenti universitari e i gemellaggi di massa, cioè conoscersi e comprendere i diversi livelli di storia. Vi faccio, è compito degli attuali, ma può essere compito anche delle istituzioni. Faccio un esempio, l'esempio più vicino, e fra l'altro siamo alla vigilia del giorno del ricordo, il 10 febbraio, quindi è un esempio che secondo me è calzante. Noi abbiamo avuto una straordinaria lezione di educazione civile europea dal presidente Mattarella e dal presidente Boru Pakor nel luglio di qualche mese fa a Trieste e a Basoghiza. Mattarella e Pakor sono andati in luoghi di memorie lacerate, indicando non solo tre tappe fondamentali di quel percorso, il Narodridom, cioè la casa della cultura slovena distrutta dallo squadrismo fascista nel 20. Gli indipendentisti sloveni e croati fucilati nel 30 dal regime fascista, e quindi questa parte della storia, e poi il luogo di Basoghiza, poco distante dal luogo dove furono fucilati i quattro indipendentisti, la foiba di Basoghiza che è diventata il simbolo delle uccisioni degli italiani del dopguerra. Hanno indicato i carri di Ula Storio e li hanno indicati come? A Basoghiza hanno consegnato insieme tenendosi per mano un'unica corona in entrambi i luoghi, una corona alle vittime della Basoghiza diciamo slovena e della Basoghiza delle foiba. Quasi a dire non ci sono vittime nostre e vostre, sono tutte vittime nostre, di questo drammatico novecento europeo che dobbiamo lasciarci alle spalle per costruire il futuro. Ecco, lo riprendo se volete, ma mi è scappata, avevo letto una domanda a cui voglio rispondere rapidamente sulla Brexit, naturalmente non ne ho parlato qui, ma rispondo volentieri a questa domanda, l'avevo messa fra i temi da trattare. Sulla Brexit noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo discusso molto prima di adottare questa scelta, perché la Brexit è l'unica data su cui noi abbiamo proposto due opinioni differenti. L'opinione di uno storico inglese, di origine irlandese, sostanzialmente favorevole alla Brexit, che non è la nostra posizione, e una voce, secondo me, splendida di Perisic, che è stato capo di gabinetto in Europa di Altiero Spinelli, di Antonio Giolitti, di Amaccio, e abbiamo scelto di offrire due punti di vista diversi, perché è interessante capire anche le ragioni. In fondo la voce di Sims, cioè quello sostanzialmente pro Brexit, è una voce cerciliana, come abbiamo detto, cioè la posizione che l'Inghilterra ha avuto ai tempi di Churchill, fate l'Europa ma senza di noi, una visione basata sull'eccezionalismo inglese. Churchill pensava che loro l'impero ce l'avevano, non erano un altro versante di questo ragionamento. In fondo l'Europa ha bisogno di costruirsi unita nel 1945 perché ha combinato un bucchio disastri, la Germania nazista. Sto un po' banalizzando, ma non troppo. Se leggete quella voce di Sims, dice più o meno questo. Ci è sembrato in sostanza utile proporre un punto di vista, in questo caso, di dignità intellettuale. Poi oltretutto irlandese, l'Irlanda come sapete non era a paura della Brexit a maggioranza. Ci è sembrato utile offrire un punto di vista di riflessione. No, rispondo prima a Grazia Ricci e poi a Elena Soncini perché evidentemente non mi sono spiegato per niente. Non si tratta assolutamente di una memoria a senso unico. Non so se ho fatto capire questo, sono proprio un fesso, diciamo. Credo che l'esempio però di Basovizia sia chiaro. Non si tratta di una memoria a senso unico, ma una memoria che comprenda anche i dolori e le sofferenze degli altri. Vede, il senso unico è un paese che crede di essere stato sempre vittima e mai oppressore. Non c'è nessun popolo che io conosca che è stato solo vittima o solo oppressore. E se un popolo si vive solo come vittima, avrà sempre voglia di rivincita. Riprendo l'esempio che credo vi sia anche più familiare dell'Istia. Ecco, la cosa fondamentale è capire anche l'erroalità che ha avuto l'Italia fascista in quelle zone. Se non per giustificare nulla, perché nulla giustifica nulla, ma per comprendere... Questa non è memoria a senso unico. Questa è, fra l'altro, la memoria unica a me sembra un incubo, la memoria condivisa a me sembra un incubo orwelliano, oltre che una contraddizione in termini, perché la memoria è quanto di più soggettivo ci possa essere. Quindi mi sembra... Quindi mi scuso se sono stato frainteso, ma speravo di essere stato più chiaro. Ecco l'altro, Elena Soncini. Allora, naturalmente, la leggo se non la vedete, perché l'Europa ha spinto affinché i paesi come Ungheria, Polonia e Sikorovacchia entrassero. Mi sembra evidente che questi paesi non sono ancora pronti per la gestione solidale dei problemi, ci sono stati solo motivazioni economiche. No, non c'è solo questo. E vede, naturalmente io sono d'accordo, insomma, mi sembra che da quello che ho detto si capisca che mi sembra un errore, insomma, l'accelerazione che c'è stata. Ma non c'era solo ragioni economiche, secondo me. Se fossero solo queste, è una spiegazione semplice, insomma. No, non c'è solo questo. C'era l'idea, c'è un'idea ottimistica di educazione alla democrazia, di sottovalutazione dei problemi. E un'idea, badate, che non ha tutti i torti. Ad esempio, c'è la voce sulla Turchia di Bosetti. E cioè, la Turchia è, che vi consiglio, e consiglio in particolare appunto a chi ha posto la domanda, la domanda di Pril, che qui sto cercando di rispondere, la Turchia è il caso di insuccesso più colossale che si possa immaginare. La voce di Bosetti mostra come in realtà l'apertura all'Europa potesse avere anche, in parte ha realmente avuto un effetto positivo, ha indotto democrazia. Cioè l'idea buona dietro, che però messa così è un po' troppo semplicistica, diciamo, è che insomma il buon esempio trasforma in meglio. E non è solo così. Badate che la discorso non riguarda solo il passato. A me vi segnalo, insomma, vi segnalo con preoccupazione la discussione che attualmente c'è solo Macron che si oppone all'allargamento all'Albania e alla Macedonia. Albania dove pochi mesi fa alle elezioni in cui ha votato il 20% il Presidente della Repubblica ha detto che erano illegali. Insomma, di questo stiamo parlando. Con delle ragioni, la ragione è stata fondamentalmente di incoraggiare la democrazia. Beh, io credo che non sia andato così. Cioè, credo che non sia possibile che i principi fondativi dell'Europa siano calpestati ogni giorno dall'Unione della Polonia, ma non solo da loro. Cioè, credo che non sia proprio possibile che non sia Europa, non sia l'Europa che abbiamo costruito. Insomma, questo mi sembra un elemento assolutamente fondativo. Quando si, la mediazione sul recovery fund, l'abbassamento della soglia di tutela può essere una cosa transitoria di fronte all'emergenza, ma non può andare avanti così. Non si può delegare un nodo centrale alla politica dei singoli stati. Questo non è possibile. Questo è quello che penso. Ma ripeto, con preoccupazione vedo che la stessa questione riguarda nuovi ingressi, riguarda nuovi ingressi. Senza sottolineare, ripeto, quello che emerge abbastanza chiaramente dal saggio di Bosetti che davvero mi ha stupito nel senso che io non condividevo tanto la sua impostazione. Però, cioè, non bisogna essere maniché né in un senso né nell'altro. Questo voglio dire. No, qui, però, forse, mi sembra che il problema di tutte le ragioni storiche sia, capisco, no, lo scutro USA, Ursa e la Natto ed ora è il multi... Non capisco la domanda, se può digitarla, cioè, proprio non... No, non capisco la domanda, segnalo però, approfitto per segnalare un'altra cosa, cioè, l'unica data non europea del nostro calendario è l'elezione di Trump. Naturalmente, non potevamo immaginare quanto al concludersi del suo mandato avrebbe portato sugli nostri schermi una rottura così clamorosa della democrazia americana. Per altri versi, però, il mandato di Trump ha esasperato e reso visibile qualcosa che c'era già prima, in realtà, di Trump ed è destinato a proseguire, cioè, la fine, il titolo della nostra voce è la fine dell'era transatlantica. Cioè, quella cosa lì che è nata, insomma, all'indomani della guerra con Europa che vive al riparo, all'abri, per dirla con Macron, della potenza degli USA non c'è più, il che pone un problema all'Europa. Pone, lo dice, Volafi con molta franchezza, diciamo, nella sua voce, pone molto banalmente questioni che possiamo chiamare in modo più o meno diplomatico, eccetera, ma è la questione dell'autonomia anche militare dell'Europa. la fine dell'era transatlantica pone una serie di questioni che attengono all'insieme del profilo che l'Europa si è presa, che da tempo non è più, ma ce l'ha detto Bush quando ha dichiarato guerra all'Iraq, dividendo in due l'Europa tra i volontari in favore dell'intervento e il governo rosso-verde tedesco e la Francia che si erano opposti, ma con Blair che ha seguito la guerra Bush, eccetera, quindi questo nodo è un nodo secondo me importante e appunto. Osserazione banale, l'uomo della strada in Polonia e Ungheria come guarda l'Europa? Ma guardi, in realtà i dati, la delusione, cioè in qualche modo c'è stata una delusione d'Europa, c'è stata perché l'ottimismo è stato da entrambe le parti. In Ungheria si diceva beh, insomma adesso cade ciascuno potrà aprire una pasticceria a Vienne per capirci. Beh, non è andata così. Però i dati, il sentimento pro-Europa in questi due paesi prevalgono i favorevoli all'Europa e naturalmente in entrambi i paesi tenendo poi anche conto della differenza tra le grandi città e retroverra e retroverra rurale. sia in Polonia che in Ungheria le grandi città non sono contro, non sono per il regino sono con Orweban e con Kaczynski non solo con i governi. In Polonia le grandi città sono state vinte dall'opposizione. In Ungheria ha perso, a Budapest ha perso Orweban che pure è molto forte nell'insieme del paese. Quindi ecco un'altra questione che secondo me è molto importante e anche su questo siamo terribilmente indietro. cosa stiamo facendo per collegarci, per aiutarci, per aiutare le forze che in quei paesi si battono contro appunto la democrazia illiberale degli Orweban e altra domanda credo sia l'interlocutrice di prima quindi Macron ha ragione a voler aspettare sì prima di far entrare Albania e Macedonia sì secondo me sì però ripeto diventa una discussione politica perché l'Europa deve continuare ad allargarsi anche qui faccio l'avvocato del diavolo io penso che non debba allargarsi però uno degli argomenti che è stato usato che viene usato non è del tutto sciocco nel senso che come anticamera c'è una via di mezzo nella politica europea c'è stata tradizionalmente una via di mezzo fra la chiusura e l'apertura e cioè la politica di buon vicinato però è stato un modo di fatto per eludere il problema nel senso che molti dicono vabbè se avete fatto buoni vicini allora perché non ci fate entrare se siamo fuori vicini fateci entrare in casa quindi c'è da questo punto di vista una cosa che era nata cioè rischia di avere un effetto quasi contrario insomma di creare aspettative e poi la delusione crea rancore no per la Turchia poi ripeto c'è un'altra domanda sulla Turchia c'è una domanda sulla Turchia rimando appunto al saggio che individua una serie di percorsi che naturalmente hanno trovato il loro punto chiave nel tentato golpe contro Erdogan insomma ma ripeto appunto per queste ragioni più specifiche non è stata una fortuna è consapevole non allargarsi all'Europa l'allargamento dell'Europa alla Turchia c'erano dei nodi sullo sfondo che erano stati posti con molta chiarezza che poi ad un certo punto sono esplosi e sono stati appunto e la situazione è quella che conoscete insomma no l'Europa un'altra domanda l'Europa dà fastidio alle soldi ma no non è questione certamente l'Europa deve esserci l'Europa deve esserci deve avere una propria capacità di iniziativa e così via questa Europa con questa divisione con questo peso sul terreno della rinforzia liberale ha difficoltà anche a intervenire sui diritti civili come si fa a intervenire voglio dire in Egitto come l'intervento europeo rispetto all'Egitto quando abbiamo Giorban i Kaczynski e così via insomma queste sono alcune queste contraddizioni che abbiamo permesso di entrare cui abbiamo permesso di entrare in Europa ripeto soprattutto secondo me secondo una visione ottimistica è questo che ha c'era insomma l'idea c'era quel clima di euforia no la fine della storia cioè gli altri sono finiti tutto il resto è finito la negozia liberale trionferà e così via e quindi inevitabilmente ma lo stesso badate anche per la differenza ecco un limite di questo manual di questo calendario scusate è che un'attenzione molto forte alla alla faglia est-ovest diciamo questo non è questo è un pregio secondo me è un pregio voluto però non c'è un'attenzione altrettanto forte alla faglia nord-sud e però anche qui badate la Grecia l'ingresso la tragedia della Grecia è stata questa non per questo cioè l'ingresso di un paese che truccava i conti no e Lucio Graciolo poi l'ha scritto una volta in un libro in un libro scusate un numero di Limes nel pulmine della crisi greca insomma l'idea era che le cicale avrebbero imparato dalle formiche che le formiche avrebbero educato le cicale non è così non è andata così quindi questo ottimismo per cui sì la Grecia insomma però insomma vabbè che obiezioni sono la Grecia deve entrare culla della civiltà europea eccetera diventerà meglio e così via ripeto adesso ho fatto l'esempio più lavoroso ma non è la cicala non è solo la Grecia ecco c'era questo stesso aspetto che ha reso meno rigorosi meno cauti di fronte alle questioni della democrazia credo che questo sia un problema credo che questo sia un problema no l'ultima cioè l'ultima domanda che naturalmente giustamente dice che è una prossima occasione però un punto mi permette di riprendere le cose che avevo detto rispetto all'intervento di Amato sulla sulla processo di costruzione dell'Europa e quello che abbiamo capito credo che abbiamo capito tutti anche chi non l'aveva capito prima è la differenza i due livelli di istituzione europea e il dramma che viviamo uno dei limiti cioè uno degli elementi negativi dell'oggi è stato il progressivo prevalere degli organi intergovernativi consiglio dei ministri europei dove i diversi governi sono rappresentati in quanto tali a strutture come la commissione europea che in realtà nascono esattamente come il parlamento europeo come sovranazionali cioè dove quindi il punto di vista il punto di vista è quello di superare non di difendere i propri interessi nazionali ma di superarli in un insieme coerente ecco questa la primo diciamo il primo passo forse è possibile se ne è un po' parlato anche in occasione delle discussioni sul recovery fund sarebbe appunto di dare di invertire la tendenza da Maastricht in poi per capirci rimando però alla voce di Amato da Maastricht in poi si è un po' si è accresciuto il peso del Consiglio d'Europa dell'organo dove sono rappresentati i capi del governo i capi di Stato per capirci ed è calato insomma il peso relativo della commissione europea cioè di strutture sovranazionali per vocazioni naturalmente sì sono designati da diversi paesi però diciamo la vocazione ha vocazione sovranazionale un luogo dove può crescere un punto di vista sovranazionale ecco questo mi sembra un punto immediato diciamo altre cose purtroppo mi sembrano lontane cioè cose futuristiche siamo appunto questo passo sarebbe però un passo estremamente importante grazie Guido non so se ci sono altre domande pare di no e quindi io ringraziando nuovamente Guido Crimes invito tutti all'acquisto la lettura del calendario civile europeo e rimando tutti gli iscritti alla prossima lezione 10 di febbraio con con Mario Cattolomelli grazie ancora Guido grazie a tutti grazie ciao ciao ciao